È un grande servizio che noi facciamo d'accordo e è frutto della grande collaborazione che c'è stata in questi anni tra Regione Marche e Trenitalia. Un servizio in più in una regione che vuole puntare sul turismo, in un momento in cui tanti turisti possono venire ad affollare le coste marchigiane, dare questo servizio di cui parliamo oggi, che dal 5 luglio al 1 settembre, tutto il fine settimana collegherà Piacenza e quindi la Romagna, l'Emilia Romagna con la Regione Marche. Credo che sia un ulteriore servizio per portare un flusso di turisti ancora maggiore sulle coste marchigiane. Stiamo lavorando con la Regione sia con quello che è già un contratto in essere per quello che riguarda la fornitura di nuovi treni, ma stiamo lavorando anche per un nuovo contratto proprio per poter cambiare l'intera plot e aumentare la produzione di treni e quindi aumentare anche la densità dei treni che circolano in questa Regione.